Esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, corsa skip lenta più power crunch. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, solleva le ginocchia mantenendo un ritmo sostenuto ma senza saltare. Non curvare la schiena, quando sollevi la gamba il busto deve essere sempre dritto, quindi mantieni l'addome contratto durante tutto l'esercizio. Non poggiare a terra il tallone, fai attenzione ad atterrare sulle punte. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, jumping jack. Via! Se non ce la fai, non saltare e porta i piedi lateralmente uno alla volta. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, saltelli con rotazioni. Via! Se non ce la fai, non saltare. Mantieni l'addome contratto durante tutta l'esecuzione per avere maggiore equilibrio ed evitare di sovraccaricare la colonna vertebrale. Non piegare la testa, aiutati guardando un punto avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, affondi laterali con tocco alle caviglie. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare la punta del piede con il ginocchio nella fase di discesa. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, plank con scalata. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare la schiena, mantenila parallela al pavimento. Contrai l'addome per avere maggiore equilibrio. Non piegare o inarcare il collo durante l'esecuzione. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, corsa con ginocchia alte. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non poggiare a terra il pallone. Termina la discesa sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, jumping jack. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare e porta i piedi lateralmente uno alla volta. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. 5, 4, 3, 2, 1, via! Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, burpees. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare quando ti rialzi. Fai attenzione a controllare il movimento quando distendi il corpo, mantenendo l'addome ben contratto. Non piegare le braccia durante i salti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, affondi laterali più salto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Fai attenzione a non piegare lateralmente il busto. La schiena deve essere sempre ben dritta. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, jump squat. Prossimo esercizio, jump squat. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Saltelli più crunch laterale completo. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Attenzione a non piegare il busto in avanti. Le spalle sono in linea con il bacino. Non poggiare a terra il tallone. Fai attenzione ad atterrare sulle punte. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Running jack. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua un jumping jack semplice. Evita impatti violenti con il pavimento. Ricorda di poggiare al suolo la punta del piede per ammortizzare meglio la discesa e proteggere la colonna vertebrale. Non piegare o narcare la schiena. Per riuscirci, tieni sempre gli addominali ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Affondi laterali con salto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui gli affondi laterali senza saltare. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare la punta del piede con il ginocchio nella fase di discesa. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Mountain climbers. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia il piede al pavimento quando lo porti avanti. Non piegare la schiena, mantenila parallela al pavimento. Contrae l'addome per avere maggiore equilibrio. Non piegare o inarcare il collo durante l'esecuzione. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Crunch cross con distensioni. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia delicatamente il tallone a terra quando distendi la gamba. Fai attenzione a non sollevare la zona lombare dal pavimento. Per riuscirci, tieni l'addome ben contratto. Non sforzare il collo. Guarda un punto fisso avanti a te per mantenerlo rilassato. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Weight kneel. Via! Se non ce la fai, tieni le gambe piegate. Fai attenzione a non sollevare le spalle quando ruoti il bacino. Tieni gli addominali ben contratti per non gravare sulla colonna vertebrale. 5, 4, 3, 2, 1, stop! 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Stretching polpacci. Via! Non piegare la schiena. Tenila sempre ben dritta. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non piegare la gamba per non diminuire l'efficacia. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Prossimo esercizio. Stretching quadricipiti. Via! Il ginocchio della gamba posteriore non deve toccare il suolo durante l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! La gamba posteriore deve essere ben distesa per allungare il quadricipite. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stretching pettorali. Via! Non forzare la spinta verso l'alto. Fermati quando senti di essere al limite. Esegui un movimento lento e regolare o rischi problemi alle articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stretching spalle e dorsali. Via! Non forzare la spinta verso l'alto. Fermati quando le spalle sono al limite. 5, 4, 3, 2, 1, stop!